La terza guerra mondiale è inevitabile. Averrà entro due anni da questo video e sarà diversa dalle precedenti, ma non per questo meno dolorosa. Ora, dietro ogni processo di distruzione ce n'è uno di costruzione. In particolare, quello che io mi auguro è la relativizzazione di alcune priorità. Il cervello umano funziona secondo logiche comparative, quindi per esprimere una valutazione rispetto ad una situazione deve sempre metterla in relazione con un'altra di cui ha fatto esperienza. Ovvio che nessun civile voleva la guerra, ma un conto è la volontà, un conto è il bisogno. Forse avevamo bisogno di un terribile assoluto come la guerra per relativizzare il niente che spesso popola le nostre vite. Siete voi pronti a tanto? Rispondete a una voce. Vabbè.